Direi che possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuti in questa lezione inaugurale per quanto riguarda il modulo didattico dell'Università di Torino, del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione. Un Master interuniversitario, un Master che in realtà è alla undicesima edizione, è stato attivato prima dall'Università di Pisa per diversi anni a cui però molti studiosi di questi fenomeni partecipavano e da tre anni, questo è il terzo anno, è diventato interuniversitario coinvolgendo oltre a Libera che è presente sin dall'inizio, è il partner di questo Master, quattro Atenei, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Palermo e appunto l'Università di Torino. Per un anno abbiamo fatto la didattica itinerante nelle quattro sedi, l'anno scorso la didattica è stata online e anche per quest'anno si è svolta finora online e questo è l'ultimo modulo. Gli studenti di quest'anno sono studenti con almeno la laurea magistrale, per questo è un Master cosiddetto di secondo livello. Abbiamo anche provenienze da percorsi formativi differenziati e quest'anno un certo numero di studenti e studentesse che lavorano nelle forze dell'ordine, negli uffici giudiziari, quindi anche un auditorio abbastanza qualificato sul tema. Dicevo che c'è stato il Master quest'anno è partito con un modulo a Pisa, è proseguito poi a Napoli e quindi a Palermo e si conclude in queste settimane a Torino. Ieri abbiamo fatto una prima lezione inaugurale con il dottor Giuseppe Gatti, abbiamo parlato delle mafie foggiane. Oggi, come sapete, come vi ho preannunciato almeno chi ha seguito ieri, abbiamo graditissimo ospite il dottor Gaetano Paci. Il dottor Gaetano Paci è magistrato con una lunghissima esperienza, prima in Sicilia, dove è stato sostituto procuratore per oltre 23 anni, occupandosi prima di reati contro la pubblica amministrazione, poi una lunghissima esperienza presso la direzione distrettuale antimafia di Palermo e quindi con una profonda conoscenza delle dinamiche di Cosa Nostra. Ormai da diversi anni, precisamente dal 2014, è procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Proprio per questo ruolo l'ho invitato a parlare di Ndrangheta, il titolo che abbiamo pensato è il contrasto all'Ndrangheta da questione locale a emergenza nazionale e internazionale. Il tema dell'Ndrangheta, come sappiamo, è la mafia per lungo tempo sottovalutata e di cui ormai è accertata la pericolosità e la presenza non solo in Calabria, ma anche a livello nazionale, in tutte le regioni e a livello internazionale. Con il dottor Paci oggi ci parlerà un po' delle conoscenze che ha maturato nelle sue esperienze investigative e giudiziarie e speriamo di avviare un dibattito anche di affrontare alcuni temi in modo diverso forse da come spesso la questione è rappresentata nel dibattito pubblico dove magari si sottolinea l'allarmismo, l'allarme, la pericolosità, ma a volte si dà poco spazio all'approfondimento. Però di questo, visto che è organizzato dall'università, io credo che per come conosco il dottor Paci, mi sembrava la persona giusta, io sono molto contento ad accogliere, che ha accolto l'invito, molto, posso dire, siligo ad apparire, insomma, non sta a presenziare in dibattiti pubblici, quindi sono molto contento che ha accolto il nostro invito. Io non ruberai più tempo, magari poi lasceremo un po' di spazio per il dibattito, vorrò alcune domande, alcune considerazioni, ma anche al pubblico che ci sta seguendo e darei subito la parola al dottor Paci, ringraziandolo ancora tantissimo. Prego. Grazie a voi, sono io che mi, come dire, vi esprimo la mia gratitudine per questa occasione di incontro con lei intanto, professore Sciarrone, nei cui confronti nutro tantissima stima per il lavoro che sta facendo, che ha fatto in questi anni, per i suoi libri, i suoi scritti, sempre di grande approfondimento, che vanno oltre, per fortuna, diciamo, la vulgata mediatica che su questi fenomeni così complessi ormai purtroppo impera. E sono grato anche a questi ragazzi, a questi dottori che hanno deciso di spendere la loro mattina per questo incontro che vorrei concepire esclusivamente in termini di una discussione, di una chiacchierata, non sono un professore, non ho quindi l'attitudine accademica a, come dire, trasmettere un sapere ed un insegnamento verso un progetto di studi, ma vorrei semplicemente trasmettere le conoscenze acquisite nella mia esperienza di magistrato dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha avuto la fortuna o la sfortuna, a seconda dei punti di vista, di lavorare prima a Palermo e di incrociare nell'ultimo anno della sua vita Paolo Borsellino quando da Marsala tornò a fare il Procuratore della Repubblica giunto proprio a Palermo nel periodo peggiore della sua carriera ma anche della sua vita per l'isolamento che soffrì. Io ero un uditore giudiziario ancora, peraltro, neppure incardinato, però contrario, perché si usava a fare così chi sceglieva di fare il magistrato all'epoca lo faceva proprio come una missione di servizio, una scelta esistenziale, quindi prima ancora che il decreto venisse formalizzato anziché andare al mare andavamo in procura, mi ricordo Borsellino che girava con le sue lacoste la sigaretta che gli pendeva da questa parte della bocca e un giorno mi porse così, mi buttò nelle mani il fascicolo che nasceva dall'arresto di Salvo Madunia in via Mariano D'Amelio dove poi lui morirà un anno dopo e che conteneva il primo libro mastro trovato alla mafia e lui mi disse teccata vaglia cioè tieni, lavora significa in siciliano, no? lui mi chiamava sempre per cognome perché era abituato così, siccome Borsellino era un camerata era un fascista cioè proprio un monarchico aveva questi ma era un uomo di un'apertura mentale straordinaria quindi lui andava secondo me e per me quello fu l'imprinting fondamentale io poi dopo le funzioni andai a fare in realtà il giudice per tre anni per poi tornare in procura quando arrivò Giancarlo Caselli da Torino il 13 di gennaio del 1995 cioè due giorni prima dell'arresto di Salvatore Riina però quell'imprinting che ricevetti cioè di una idea di lavoro da organizzare sulla criminalità sulla criminalità organizzata in modo sistemico è rimasto per tutta la mia vita a maggior ragione adesso ecco perché ho fatto questo breve incipit biografico personale in questo per le funzioni che svolgo da ormai quasi sette anni a Reggio Calabria che sono funzioni di coordinamento del lavoro di altri colleghi sia della direzione distrettuale antimafia sia del gruppo misure di prevenzione prevenzione di personali e patrimoniali la mia idea del lavoro sistemico nei confronti della criminalità organizzata non solo si è sempre più consolidata ma direi che è stata messa anche come dire un po' alla prova nei confronti di un fenomeno per certi versi nuovo diverso anche se poi assimilabile omogeneo per alcune caratteristiche alla mafia siciliana che è l'andrangheta ecco e io se proprio me lo consentite vorrei iniziare questa chiacchierata da una battuta non so quanti di voi sanno che la mafia cioè l'andrangheta nell'ordinamento italiano esiste dal 2015 da quando cioè è stata o meglio nel 2010 da quando cioè la legge 31 marzo di quell'anno ha interpolato l'articolo 416 bis introducendo il principio secondo cui le disposizioni che appunto connotano l'associazione mafiosa e che poi ne fanno anche conseguire tutta una serie di presupposti applicativi per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniali per quanto riguarda l'ambito di applicazione della fattispecie del delitto di associazione mafiosa si applicano anche alla camorra all'andrangheta alle altre organizzazioni criminali comunque localmente denominate anche se straniere tutte le volte che queste si avvalgono del metodo intimidatorio fornito fornito dal vincolo associativo per realizzare il programma dell'articolo 416 bis quindi questo accade nel 2010 dicevamo ma non significa che prima di quell'anno l'andrangheta non esistesse così come non significò quando l'articolo 416 bis venne introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dalla legge rognoni la torre la 646 del 1982 che prima non esistesse la mafia ma significa che la sua regolamentazione penale soprattutto era affidata ad altri strumenti in quel caso era affidata all'articolo 416 all'associazione delinquere semplice con risultati che ovviamente tutti tutti conosciamo che impedirono sostanzialmente di reprimerlo in modo adeguato è ovvio che prima del 2010 si sono fatti tanti tanti processi e tante immagini nei confronti dell'andrangheta sia nei distretti calabresi prevalentemente quasi esclusivamente direi in quell'epoca a Reggio Calabria solo sporadicamente qualche processo è stato fatto presso il distretto di Catanzaro ma anche in altre parti del territorio nazionale è sufficiente che io vi ricordi che il primo omicidio di un magistrato di un magistrato in Italia nel nord Italia in particolar modo per delitti di criminalità organizzata lo commette proprio l'andrangheta uccidendo negli anni 70 il procuratore Bruno Caccia che era procuratore della Repubblica di Torino quindi questo per dare l'idea che e già questo vorrei che fosse per voi un primo input che non sempre c'è perfetta corrispondenza tra fenomeno criminale tra realtà fenomenica realtà effettuale e la sua trasposizione normativa e una adeguata ricostruzione in termini legislativi e normativi che è sempre il presupposto necessario per individuare poi il modulo operativo per contrastare quel determinato fenomeno però vedete nel 2010 quando il legislatore fa questa importante scelta di campo che non è limitata solo all'andrangheta ma comprende anche la camorra compie un salto di qualità importante perché inserisce l'andrangheta nell'ambito della criminalità di tipo sistemico perché di tipo sistemico che cosa vuol dire secondo almeno il punto di vista degli operatori pratici probabilmente già per voi che avete fatto studi di sociologia di criminologia e avete affrontato questi questi temi diciamo nell'ambito di una ricostruzione più generale il tema sarà stato trattato però per l'operatore l'inserimento dell'andrangheta nell'ambito della criminalità di tipo sistemico significa riconoscere già ad un livello legislativo quindi cogente quindi obbligatorio che il crimine organizzato di di natura andranghetista poi vedremo che cosa è o che cosa si può intendere è un crimine organizzato che ha una sua storia una sua evoluzione un suo sviluppo che segue in questo sviluppo determinate costanti e che soprattutto è un crimine che non si esaurisce nella commissione di determinati specifici delitti ma è un crimine che ha lo scopo di condizionare come dice proprio la norma dell'articolo 416 bis l'esercizio delle attività economiche siano esse lecite a maggior ragione quelle illecite ma soprattutto quelle lecite sia la gestione della concorrenza nell'ambito delle attività economiche sia l'esercizio dei poteri pubblici sia l'esercizio del diritto di voto quindi quando noi ci imbattiamo in una organizzazione che non si propone di faccio un esempio rapinare tutti i tir che passano in un certo tratto dell'autostrada del sole o di rapinare tutte le ville dei signori benestanti che si trovano tra la costa la costa azzurra e la Liguria tanto per fare un altro esempio e quindi con un programma delittuoso sì ampio ma pur sempre circoscritto e limitato bensì un programma delittuoso che ha come obiettivo quello di porsi come una struttura di potere in una società e allora lì c'è la criminalità organizzata dico questo perché parlando di questi temi noi dobbiamo guardare anche alla loro proiezione internazionale che vedremo per l'andrangheta è diventato un elemento assolutamente indefettibile più di quanto non lo sia adesso per Cosa Nostra dato che Cosa Nostra ormai non esiste più questo lo possiamo dire tranquillamente essendo stata ampiamente ridimensionata sia dall'azione giudiziaria sia dalle collaborazioni con l'autorità giudiziaria sia anche dall'inevitabile fisiologico cambio generazionale e quindi dalla mancanza di soggetti che hanno potuto che non hanno preso le redini dell'organizzazione così come i suoi fondatori l'avevano lasciata e così via ebbene il profilo internazionale diventa fondamentale oggi vi anticipo un ulteriore elemento che può essere di riflessione per esempio non esiste a livello internazionale una definizione di criminalità organizzata che cogente per tutti i paesi se non del mondo quantomeno quelli di ordinamento giuridico assimilabile a quell'italiano quindi occidentale e comunque di diritto continentale sebbene esista una convenzione dell'ONU stipulata proprio a Palermo nel dicembre del 2000 che è la convenzione sul crimine organizzato transnazionale che detta una serie di criteri guida cui i singoli stati si devono adeguare per disciplinare la loro legislazione sulla criminalità organizzata va detto subito che molti di questi paesi anzi la stragrande maggioranza dei paesi che hanno firmato la convenzione credo che siano in tutto 171 tra cui buona parte dei paesi europei nonostante hanno aderito alla convenzione non hanno per esempio varato delle legislazioni corrispondenti in materia di criminalità organizzata e questo è un primo grave gravissimo problema di crisi che noi abbiamo ecco sto facendo una brevissima introduzione già per mettere sul tappeto alcuni dei problemi con i quali ancora oggi sia gli operatori giudiziari ma soprattutto gli stati si si confrontano e che soffrono nel contrasto al crimine organizzato transnazionale di cui l'andrangheta è sostanzialmente il prototipo assoluto è il protagonista il prototipo unico è il protagonista assoluto ebbene tutti questi paesi si confrontano e rilevano la grande difficoltà di adottare delle misure di contrasto che vadano oltre i confini del singolo specifico paese rispetto ad un'organizzazione che ormai ha dimostrato di saper adottare anche linee di intervento di carattere internazionale allora quindi noi partiamo da una situazione in cui il nostro paese e lo aveva già anticipato il vostro professore arriva certamente in ritardo a scoprire che esiste un'organizzazione che ha una struttura vedremo anche sul concetto di struttura che cosa significa per la Nangheta rispetto a quello che è stata la struttura per esempio per Cosa Nostra è chiaro che il paragone non può che essere sempre con Cosa Nostra lo dico subito anche qui per sgombrare il campo da un possibile equivoco perché per esempio la Camorra che è l'altra la terza organizzazione criminale citata dall'articolo 416 bis non può mai assurgere ad elemento comparativo esaustivo nella delineazione di questo tipo di tema che è quello appunto della struttura che mette organizzata perché non ha mai avuto una struttura in Italia in quanto come sempre si è detto e come peraltro le sentenze hanno finito per riconoscere la Camorra è un'organizzazione pulviscolare un'organizzazione molecolare che si muove sul territorio ed è estremamente cangiante secondo i rapporti di forza tra i vari gruppi criminali egemoni su determinati contesti territoriali e quindi non come dire non ha quella quella previsione di un ordinamento interno che invece Cosa Nostra ha sempre avuto anche se poi lo si è scoperto sostanzialmente tra la fine degli anni 60 con le dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia tutti mai creduti ricorderete il collaboratore Marsala che sostanzialmente anticipò di 15 anni Buscetta che arriverà solo nel 1984 e venne però ritenuto pazzo Marsala è ucciso davanti su una panchina dove dormiva da Barbone davanti la questura di Palermo in piazza Vittoria Buscetta poi nell'84 a Falcone spiegherà che cos'è la struttura soprattutto a che cosa serve la struttura perché poi in fondo vedete come per la criminalità come per gli stati come per le organizzazioni complesse come per le società multinazionali anche per la criminalità organizzata è un po' la funzione che crea l'organo secondo una terminologia propria dei costituzionalisti cioè la funzione la necessità l'esigenza l'obiettivo di garantire in questo caso la preservazione dell'ente strutturale strutturato secondo determinati criteri di tipo territoriale di tipo funzionale rispetto alla commissione dei singoli delitti ma soprattutto anche rispetto alle situazioni di potenziale conflittualità interna che dai singoli delitti o dalle singole decisioni ne può derivare quindi la necessità di salvaguardare l'integrità della struttura rispetto alle situazioni potenzialmente disgregatrici interne comporta appunto l'esigenza di dotarsi di un insieme di un insieme di regole e se questo Cosa Nostra è riuscito a farlo fino al momento di massima crisi Cosa Nostra in particolare è un'organizzazione che nasce sul finire dell'800 nelle campagne siciliane quando queste vengono abbandonate dai grandi proprietari latifondisti e affidate agli uomini d'armi alle compagnie d'armi che erano state costituite nel 1818 lo ricorderete che vennero utilizzate anche dai borboni per mantenere l'ordine all'interno delle campagne le compagnie d'armi erano costituite da galeotti da pregiudicati quindi che potevano in questo modo contrattare con l'autorità costituita la loro legittimazione in cambio di un servizio che fornivano ebbene Cosa Nostra via via svilupperà la sua articolazione interna secondo dei criteri di ordine territoriale e anche di tipo funzionale arrivando a concepire soltanto all'indomani del ruolo che la stessa iniziò ad avere all'interno del traffico internazionale di stupefacenti all'epoca era l'eroina fine anni 60 primi anni 70 l'eroina base che veniva dai paesi dell'estremo oriente attraverso la Turchia arrivava in Sicilia veniva raffinata e veniva portata negli Stati Uniti ebbene questo grosso movimento planetario attraverso cui il narcotraffico all'epoca si sviluppò generò una fase di grandissima accumulazione originaria direbbe Marx che servì a Cosa Nostra per fare tutta una serie di investimenti che erano forme di riciclaggio nel settore più immediatamente aggredibile dalla criminalità organizzata all'epoca perché il più semplice il più permeabile che è quello dell'edilizia settore oltretutto strettamente connesso alla funzione pubblica al ruolo delle istituzioni pubbliche e quindi alla politica e quindi consentendo attraverso la possibilità di trasformare il provento del narcotraffico in elemento di edificazione di amplissime zone del territorio quindi una cementificazione anche selvaggia un modo per acquisire anche una legittimazione sociale ecco tutto questo Cosa Nostra lo fece e lo fece in un momento in cui chiaramente questa enorme massa di liquidità generava anche una grandissima conflittualità allora il rischio che questa conflittualità potesse diventare autodistruttiva andava fronteggiato attraverso la necessità di darsi una struttura quindi una serie di camere di compensazione una serie di luoghi dove queste tensioni potevano stemperarsi e quindi le varie commissioni già a livello ad un livello elementare quindi la famiglia la decina il mandamento la riunione dei mandamenti e poi la commissione provinciale di Cosa Nostra e così via fino a quella regionale tutto questo accade nel momento di massima espansione economica di Cosa Nostra che a un certo punto aggancia anche l'espansione del welfare nazionale perché ricorderete che soprattutto negli anni 80 con la fase espansiva dell'economia determinata da una spesa pubblica sempre più ampia sempre più diciamo inserita in vari gangli sociali ed economici per esempio la spesa pubblica in materia sanitaria creò i presupposti in Sicilia per un condizionamento profondo della sanità da parte di Cosa Nostra gli anni 80 gli anni 90 gli anni 2000 la sanità tanto per dire è il terreno su cui cade il governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro per le sue collusioni con con l'ultimo scampolo dei corleonesi quelli che facevano capo all'ingegnere Aiello a Bernardo Provenzano e così via e così anche in altri settori economici quindi questo per dire che c'è ovviamente una costante nelle storie della criminalità organizzata di tipo sistemico ovviamente tra le congiunture di carattere economico sociale ma anche di ordine macrosistemico a livello politico ed internazionale e le modalità anche di tipo strutturale di tipo organizzativo con cui l'organizzazione criminale si adegua ad affrontare questi passaggi la stessa cosa è stata per la Andrangheta però perché l'Andrangheta ha rispetto a Cosa Nostra impiegato più tempo ad emergere come fenomeno fenomeno criminale perché alla base l'Andrangheta è un fenomeno intanto di tipo familiare cioè la struttura criminale di base è costituita dalla famiglia di sangue mentre invece la struttura criminale di base della mafia siciliana è sganciata dalla famiglia di sangue voi non troverete una cellula elementare quale può essere la famiglia indicata con il nome del familiare ma semmai con il nome della zona quindi così c'è la famiglia di Pagliarelli di Corso dei Mille di Resultano di Catania e così via mentre in Calabria trovate i Cacciola i De Stefano i Condello i Tegano i Nirta i Morabito i Farao Maringola e così via quindi questo è diciamo l'elemento che se può apparire segno di un limite in realtà per la prima fase di diciamo di crescita e di sviluppo dell'organizzazione criminale ne ha assicurato sostanzialmente l'impermeabilità perché un'organizzazione che si basa fondamentalmente o meglio una serie di strutture di cellule organizzative che si basano fondamentalmente sul legame familiare sul legame di sangue già contiene una serie di anticorpi fondamentali per poter poi resistere non soltanto agli inevitabili conflitti intraassociativi endoassociativi e come vedremo la storia dell'andrangheta al pari di quella della mafia è piena di faide che si sono sviluppate nel corso degli ultimi 40 anni che hanno prodotto tragedie in mani centinaia e centinaia di morti alla fine degli anni 80 qui a Reggio Calabria si contavano oltre 700 morti cioè una guerra civile ma anche anche per resistere rispetto alle all'azione di contrasto dello Stato delle delle istituzioni bene in tutta quindi la sua prima fase che grossomodo noi possiamo collocare tra nell'immediato dopo guerra ma soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 80 il diciamo il core business dell'andrangheta è rappresentato dal crimine che più si adegua alla sua struttura organizzativa che è il sequestro di persone il sequestro di persone realizzato nei confronti di persone figli soprattutto giovani di famiglie di imprenditori del nord come dire depurato da una da un'aurea pseudo ideologica pseudo rivendicatrice di una voglia di rivalza sociale rispetto a chi al nord ha avuto la possibilità di potersi arricchire sfruttando il lavoro degli operai e dei contadini che venivano dal sud e lasciando nella fame tutti quelli che nel sud rimanevano perché privi di industrializzazione privi di qualunque forma di di sostegno rispetto ad uno sviluppo in qualche modo autonomo dell'economia che non fosse quello legato alla pastorizia alla silvicultura all'allevamento del bestiame alla allo sfruttamento della terra neppure alla pesca perché di fatto la pesca in Calabria a differenza per esempio della Sicilia o di altre regioni non è mai stata una risorsa economica significativa quindi sgombrato questo tipo di giustificazione dal ricostruzione del sequestro di persona come una sorta di riappropriazione di una sorta di esproprio proletario ai danni del nord lo cito semplicemente perché questa è stata una giustificazione che per tanti anni gli stessi indranghettisti hanno portato avanti in realtà aveva una sua una sua diciamo reale giustificazione proprio perché questo tipo di crimine poteva essere assicurato dalla straordinaria forma di solidarietà che si veniva a creare non solo all'interno di una stessa famiglia quella che normalmente gestiva il sequestro di persona inserita magari in un network in un gruppo in un consorzio di famiglie che ne concepivano la la realizzazione e poi la gestione in tutte le sue varie fasi esecutive ma anche sul territorio perché la fase in cui un sequestrato permaneva per più tempo addirittura anni sul territorio calabrese veniva affidato da una famiglia ad un'altra spostandosi in varie parti soprattutto delle zone aspromontane particolarmente impervie ed inaccessibili anche agli operatori di polizia e dell'investigazione finiva anche per dare a quelle famiglie coinvolte in questo tipo di crimini quindi crimini di lunga durata crimini tra l'altro necessitanti anche di una base di interlocuzione nelle zone di provenienza dei sequestrati normalmente appunto dell'area industriale del nord del paese e che ha generato poi nel tempo anche l'insediamento criminale delle indrine fuori dal territorio calabrese anche questo è un aspetto importante sul quale cercherò pure di dire qualcosa e già ci sono varie sentenze in diversi sequestri molti dei quali peraltro anche conclusi con modalità con esiti non sempre diciamo fausti con la soppressione o comunque la mutilazione dell'ostaggio che evidenziano come la la modalità operativa dell'organizzazione fosse molto complessa perché basata certamente sulla sua capacità di eludere qualunque forma di investigazione sul territorio ma non solo anche sulla sua capacità di saper instaurare rapporti e collegamenti con le forze di polizia con gli investigatori generando così la pratica delle relazioni diciamo sotterranee spesso non visibili informali ma che si si rivelarono particolarmente utili e significative per consentire all'organizzazione da un lato di proporsi come soggetto affidabile rispetto agli investigatori per risolvere appunto le questioni critiche legate al sequestro di persona o vedremo poi anche ad altri fenomeni ad altri fatti ad altri fatti specifici questo peraltro mette in evidenza un dato che accomuna un po' la caratteristica una delle caratteristiche delle organizzazioni criminali di tipo sistemico nel rapporto con le forze dell'ordine che ritroviamo anche in Cosa Nostra cioè anche in Cosa Nostra alcuni tra i principali leader delle organizzazioni come è stato ricostruito da varie sentenze mantenevano rapporti preferenziali ancorché riservati e fuori da ogni ufficialità con le forze dell'ordine perché questo costituiva come dire un riconoscimento della loro capacità di saper interloquire con l'autorità formale costituita ma anche della loro capacità di saper gestire situazioni che l'azione investigativa dello Stato spesso non era in grado di risolvere quindi acquisendo in questo modo una legittimazione anche sociale molto forte l'Andrangheta ha avuto modo di sperimentare questo tipo di relazioni proprio in connessione di alcuni dei grandi sequestri di persona ancora oggi rimangono zone oscure opache non chiare sulle modalità con cui si è prevenuti alla liberazione dell'ostaggio al di là della formale corrisponzione del riscatto peraltro in un momento in cui poi a un certo punto viene introdotta anche una legge che impedisce il pagamento del riscatto ai sequestratori eppure questo viene pagato ugualmente attraverso la mediazione di soggetti terzi professionisti faccendieri soggetti dei servizi ovviamente non proprio in linea con le prassi ortodosse dei servizi di sicurezza e così via quindi tutto questo accresce come dire quel capitale sociale che fa dell'andrangheta un punto di riferimento sul territorio perché se poi l'autorità di polizia aveva necessità di contrastare un certo tipo di criminale un certo tipo di organizzazione che si muoveva all'atere della propria operatività l'andranghetista o comunque le persone delle quali egli era in grado di poter di poter disporre assicurava quel tipo di risultato per cui concorreva in qualche modo anche a consolidare l'azione della dell'autorità di pubblica sicurezza quindi del potere costituito formale tutto questo quindi crea come vedete un insieme di relazioni chiaramente illecite perché poi col tempo si è scoperto che queste relazioni erano certamente illecite e soprattutto delegittimavano nei fatti l'azione dello Stato che però ha consentito all'andranghetta di ergersi appunto di riferimento in questa fase che quindi noi così molto a grandi linee possiamo collocare tra gli anni sessanta e gli anni ottanta accade anche che grazie a questo tipo di criminalità l'andranghetta ottiene la possibilità di disporre di ingenti capitali normalmente liquidi che deve reinvestire e qual è il principale sbocco che viene dato a questi capitali è quello del traffico di stupefacenti che però nel tempo cambia perché dall'eroe che via via diciamo sia per l'appannaggio di Cosa Nostra sia per la scoperta di nuove forme di sostanze stupefacenti sia per la capacità dell'andrangheta di saper sfruttare a differenza di Cosa Nostra anche le proprie relazioni a livello internazionale gruppi di andrangheta nel tempo anche per sfuggire all'azione repressiva dello Stato per quanto riguardava l'industria dei sequestri di persona si erano stabiliti al di là dell'oceano non solo negli Stati Uniti d'America o in Canada ma per esempio in Australia in Nuova Zelanda quindi in luoghi dove nel tempo si sono via via consolidate delle strutture esattamente analoghe a quelle dalle quali molti di questi soggetti erano andati via erano partiti quindi riproducendo lo stesso tipo di humus familiare e innestando nelle comunità territoriali dove questi soggetti venivano a stabilirsi sostanzialmente lo stesso tipo di ordinamento con lo stesso tipo di regole cito cito forse l'esempio più eclatante che è quello della famiglia degli Alvaro provenienti da Sinopoli un piccolo paesino che si trova sulla sulla piana di Gioia Tauro che ha assunto nel tempo una dimensione territoriale straordinaria e che le indagini anche recenti svolte da Reggio Calabria ma anche dalle autorità australiane hanno consentito di documentare di documentarne l'inserimento all'interno delle istituzioni pubbliche per esempio della dell'Australia quindi diciamo con uno sviluppo criminale e sistemico certamente di grandissima di grandissima rilevanza altro tema sul quale poi ci possiamo anche intrattenere è quello il rapporto che mantengono queste strutture associative che agiscono fuori dal territorio di origine con quelle dalle quali provengono è un tema molto aperto ancora oggi ci sono state anche a livello giurisprudenziale numerose pronunzie non sempre convergenti se volete ne parliamo però ecco io volevo un attimo chiudere questa prima fase del nostro discorso di tipo sostanzialmente introduttivo basato sull'organizzazione per dire che l'andrangheta quindi attraversa tutta la stagione dei sequestri di persona sostanzialmente rimanendo rimanendo un'organizzazione di tipo familistico e senza alcuna vera stanza di compensazione se non la riunione annuale agli inizi di settembre di ogni anno che tutti i capi indranghetisti a partire dal summit di Montalto del 1969 e poi via via rinnovandola ogni anno appunto presso il santuario della Madonna di Polsi un luogo diciamo molto importante per la religiosità calabrese perché questo santuario si trova in una zona particolarmente impervia dove è difficile arrivare attraverso mezzi di locomozione di comunicazione ordinari dove la gente arriva normalmente a piedi dopo dopo anche qualche giorno di cammino e che l'andranghet ha trasformato anche questo in questo c'è pure una costante con con Cosa Nostra cioè l'uso dei dei simboli e della e della e del metodo della 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 religione cattolica fondamentalmente e dei suoi e dei suoi strumenti e delle sue istituzioni sul territorio per acquisire una propria legittimazione quindi la particolare devozione manifestata dai capi indranghetisti ogni anno a settembre quando si celebra la 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 festa della Madonna di Pozzi quando ritornano dal dall'estero non solo dall'Europa ma soprattutto dalle Americhe e dalla e dalla e dall'Australia e dal Canada tutti gli immigrati che nel frattempo hanno ruoli di indranghetisti formalizzati in quei paesi diventa un elemento come dire via via sempre più consolidato e costante a tal punto che questo elemento ecco ancora il discorso che si faceva prima della 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 funzione che sviluppa l'organo in questo caso la funzione qual è? La funzione è quella di assicurare di assicurare su un piano internazionale una gestione quanto più possibile coordinata del traffico di stupefacenti del traffico di armi al fine di evitare l'insorgere di conflittualità bene scusate un attimo il telefono rispondo dopo perché anche qui ovviamente così come è stato per Cosa Nostra in presenza di una economia illegale che questa volta non è più quella dei sequestri di persona ma quella del traffico internazionale di stupefacenti occorre disciplinare sostanzialmente il fenomeno e dunque occorre creare anche delle condizioni per evitare che la gestione di queste ricchezze possa diventare un elemento di autodistruzione e quindi si creano una serie di stanze di compensazione che via via servono a coordinare gli interventi facendo facendo in modo che ciò che accade nei territori diversi da quelli di origine siano pur sempre riconducibili in fase quantomeno ideativa ad una interlocuzione preventiva con i capi delle endrine rimasti sui territori o a forme di autorizzazione di volta in volta alle situazioni contingenti dunque la necessità di creare una un coordinamento nell'azione delle varie indrine a un certo punto è sostanzialmente un atto dovuto ecco perché anche nel contrasto giudiziario alla mafia cambia la prospettiva cosa voglio dire cambia la prospettiva cambiano anche i metodi di indagine perché nella prima fase quella diciamo più cruenta che segnò per esempio qui a Reggio Calabria la prima e la seconda guerra di mafia che alla base di un grosso maxiprocesso ormai da tutti conosciuto come processo Olimpia dove vennero giudicati i responsabili dei numerosissimi omicidi commessi tra gli anni settanta e gli anni ottanta l'obiettivo era quello di trovare il collegamento tra i singoli omicidi commessi sul territorio e ovviamente non solo gli esecutori materiali perché è chiaro che questo attiene alla prima fase dell'investigazione ma soprattutto alle deliberazioni di base da parte delle varie endrine e alla individuazione dei contrasti e quindi delle alleanze e quindi dei rapporti di forza che via via sul territorio si erano determinati tutto questo è servito a diciamo ad investigare l'evoluzione dell'andrangheta per almeno un ventennio ma poi a un certo punto questo metodo non è servito più perché alla fine di quel processo intendo processo evolutivo processo economico processo strutturale non solo processo giudiziario le 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 hanno trovato il modo per evitare che soprattutto l'arrivo della nuova ricchezza che si si prospettava col traffico di cocaina generasse un'ulteriore carneficina come quella che va caratterizzato Reggio Calabria tra gli anni 70 e gli anni 80 da qui dunque la necessità di stanze di compensazione stanze di compensazione che tra l'altro trovavano anche come dire una una regolamentazione coggente per via di una serie di investimenti di tipo strutturale particolarmente cospicui particolarmente rilevanti per il territorio come la realizzazione del quinto centro siderurgico la realizzazione del porto di Gioia Tauro la realizzazione dei primi insediamenti industriali per lo smaltimento dei rifiuti la realizzazione di alcune infrastrutture o il potenziamento di altri per esempio l'aeroporto e gli aeroporti e poi l'entrata in scena a partire dal 1970 delle regioni un ente di spesa particolarmente importante attraverso cui lo stato centrale delegava quote di materie significative la sanità l'agricoltura la formazione professionale in parte l'istruzione e così via dai quali passava un importante flusso di spesa pubblica che ovviamente l'andrangheta aveva necessità di condizionare ai propri fini quindi per evitare che tutto questo si trasformarsi in una perenne guerra con morti ammazzati con inchieste giudiziarie quindi con una particolare attenzione degli organi di investigazione perdendo quindi le possibilità di accedere a questo tipo anche di finanziamenti pensate poi a questo tipo di ragionamento proiettato su una scala molto più ampia che sia nel momento in cui con gli accordi europei da ultimo quelli di Maastricht le regioni ordinarie compresa la Calabria divengono destinatari di ingentissimi finanziamenti di derivazione comunitaria anche questo dunque renderà ancora più forte l'esigenza di questo coordinamento tutto ciò quindi porterà a che cosa porterà a creare le condizioni per prevenire questo tipo di conflitti e pervenire ad una gestione concordata delle azioni criminali sul territorio e soprattutto di quelle aventi ad oggetto il condizionamento della spesa pubblica fondamentalmente questo quindi creerà le condizioni perché l'andrangheta intanto non baserà più la propria azione su una mancanza di coordinamento tra le singole unità operative ma soprattutto venisse visto all'esterno come un interlocutore particolarmente importante e acquisisse quindi una legittimazione sempre più sempre più ampia tutto questo segna oltretutto anche la fine di una conflittualità diciamo così fratricida e che farà dell'andrangheta un po' la stessa la stessa organizzazione in grado di gestire anche il momento della sanzione diciamo più più grave e radicale che quella dell'omicidio confinandolo soltanto a situazioni particolarmente rilevanti perché gli omicidi ovviamente creano una particolare attenzione da parte dello Stato e richiamano lo Stato ad una linea di contrasto molto più rigorosa nella quale per esempio anche i momenti di interlocuzioni formali oggi si usa la parola trattativa per designare diciamo questo territorio un po' di nessuno in cui appartenenti ai settori dell'investigazione dei servizi di sicurezza dell'andrangheta facendo i rivari si incontravano per dirime le questioni ma che sono sostanzialmente esistite da sempre ebbene anche queste stanze di compensazione hanno finito via via per moltiplicarsi proprio per a divenire quanto più possibile ad una pacificazione apparente territoriale che così impedisse allo Stato di poter incentivare di incrementare la propria azione repressiva nel frattempo tutto questo ha portato ad un arricchimento sempre più cospico delle cosche di indrangheta e soprattutto l'esigenza di trovare di dare uno sbocco a questo a questi capitali a questi flussi finanziari che andassero al di là dell'economia illegale propriamente detta quindi traffico di stupefacenti e traffico di armi in primo luogo e poi in parte anche traffico traffico di rifiuti e quindi l'esigenza di inserirsi nel contesto dei mercati dei mercati legali dei mercati regolari tutto ciò viene da un punto di vista giudiziario radiografato in un altro grosso processo che segna un po' la sintesi di tutto quello che ho cercato di rappresentarvi in termini estremamente se volete anche un po' grossolani ma la storia di questi anni è proprio questa che è il processo crimine il processo crimine rappresenta così come il processo olimpia di 20 anni prima rappresenta un po' la conclusione di un percorso evolutivo che mette a frutto diciamo sicuramente un salto di qualità dell'andrangheta nella sua capacità intanto di strutturarsi secondo le esigenze che via via erano venute fuori ma nello stesso tempo anche di orientare la propria azione programmatica sistemica in funzione anche di salvaguardare tutte queste ricchezze e metterà in evidenza anche un paradosso se si vuole dell'andrangheta cioè quello di via via abbandonare i territori di origine per situarsi in luoghi del territorio nazionale intanto particolarmente ricettivi per accogliere gli investimenti provenienti dall'accumulazione illegale e mi riferisco principalmente alle regioni del centro nord con particolare preferenza alla Liguria al Piemonte la Lombardia il Veneto l'Emilia-Romagna e in parte anche in parte anche il Lazio infatti noi ritroviamo la presenza degli aggregati criminali dei paesi della Tirrenica o della Ionica o dell'area del centro o di Reggio Calabria sparsi appunto in queste regioni e lì cosa si verifica? Si verifica una cosa per certi versi interessantissima da un punto di vista diciamo sociologico meno da un punto di vista giudiziario perché questi nuclei familiari si stabiliscono in questi territori e non hanno più a differenza di quanto accadeva in passato l'esigenza di ricorrere ai tipici delitti che commettevano nei confronti per esempio degli imprenditori attraverso l'estorsione attraverso l'abbigieato attraverso l'usurpazione di territori ma anche attraverso i sequestri di persona perché sono già dotati dei capitali necessari per affrontare le azioni le iniziative imprenditoriali nei luoghi dove queste potevano svolgersi quindi non hanno bisogno neanche di ricorrere a forme di violenza particolarmente cruente per affermarsi perché dispongono di una liquidità che dà loro modo di inserirsi sostanzialmente dappertutto anzi vi potrei citare alcune indagini da cui si comprende chiaramente che gli imprenditori di quelle aree mi viene in mente adesso un'indagine sulla Liguria l'indagine Alchemia ma anche un'indagine sulla provincia di Brescia ricercano i servizi dei imprenditori granghetisti in materia per esempio di smaltimento di rifiuti perché sanno che sono in grado attraverso pratiche ovviamente illegali di procedere allo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti risparmiando moltissimo sui costi di gestione che secondo le procedure legali ovviamente avrebbero determinato per l'imprenditore un esborso certamente di gran lunga superiore mentre in questo modo l'andrangheta ha consentito di fare questo tipo di conseguire questo tipo di economie di scala e quindi tutto questo è avvenuto senza che siano emersi delitti specifici e tutto ciò ovviamente ha favorito la penetrazione molto silente molto come dire sotto traccia non dico nulla di nuovo soprattutto al professore Scerrone che su questi temi ha scritto bellissimi saggi non solo mafie nell'ombra ma anche le mafie al nord e quindi con cui ricostruisce molto bene tutti questi passaggi io mi limito semplicemente a delineare questo aspetto di tipo evolutivo semplicemente per dire che questo ha creato le condizioni di vantaggio per l'andrangheta di non dover subire un'azione di contrasto per almeno un quindicennio o un ventennio in quelle zone del nord in cui ha avuto modo di consolidarsi e di e di arricchirsi sostanzialmente facendo affari in ogni tipo tra l'altro di segmento economico perché anche questo è un dato che va evidenziato chi ancora sostiene che l'endrang che la criminalità organizzata in genere e l'endrine soprattutto si occupano di tradizionali settori segmenti di mercato diciamo privi di una particolare specializzazione dice una cosa diciamo non corrispondente alla realtà perché al contrario quello che emerge appunto in materia di rifiuti di smaltimento di rifiuti ma anche in materia di lavori di alta specializzazione in materia per esempio di sfruttamento delle energie alternative ecco l'endrangheta attraverso la capacità anche di saper arruolare di saper convogliare al proprio interno le competenze specialistiche di esperti di funzionari della pubblica amministrazione attraverso la corruzione la corruzione anche elettorale di politici e guomini interessati a ottenere incarichi di tipo politico nelle varie istituzioni sia territoriali che nazionali è stata in grado sostanzialmente di occupare anche settori di mercato e quindi di spesa sia pubblica che privata particolarmente particolarmente importanti allora la sentenza crimine che assieme alla sentenza infinito del tribunale di Milano interviene tra i primi anni successivi al 2010 2012 2014 è un po' la somma di questo ulteriore processo sia di tipo economico ma anche di tipo criminale oltre che di tipo strutturale e che però a differenza di quello che accadeva nel ventennio precedente è basato essenzialmente sul rapporto che deve esistere tra la casa madre cioè l'organizzazione di provenienza e quella che opera sul territorio delle altre regioni perché questo rapporto deve avere una sua connotazione specifica per essere considerato penalmente rilevante badate che in alcuni casi questo rapporto è stato ritenuto privo di rilevanza penale e gli imputati perché come dicevo prima nel loro operare non hanno dato adito ai tipici delitti come le estorsioni le intimidazioni gli omicidi o comunque traffici generalmente genericamente illeciti perché avendo la possibilità di investire moltissimi soldi sostanzialmente si sono comportati come apparentemente un normale imprenditore sia pure facendo sempre capo all'organizzazione dranghetista di base per assumere come dire le linee strategiche diciamo che l'occasione che ha dato poi origine ad un ripensamento anche di questo aspetto dell'azione fuori territorio dell'endrangheta è stato anche qui un fatto traumatico cioè l'omicidio di un dranghetista che intendeva sganciarsi completamente dalla casa madre e assumere la piena autonomia operativa in Lombardia soprattutto in modo da poter avere il controllo rispetto a tutta una serie di attività economiche ebbene questo fatto scatena una reazione particolarmente forte particolarmente cruenta scatena oltretutto le attenzioni da parte delle forze investigative che peraltro diciamolo pure non erano neanche preparate al nord ad affrontare adeguatamente l'analisi dell'operatività propria dell'endrangheta cosa che ne aveva determinato appunto un vantaggio fortissimo e da questo punto di vista quindi a trovare in qualche modo un rimedio rispetto ormai ad una presenza sempre più massiccia e radicata oggi a distanza ancora di quasi dieci anni da quelle sentenze che hanno segnato un po' un ulteriore diciamo importante segmento storico della presenza dell'endrangheta nel nostro paese in realtà è residuato e residua un ulteriore problema ancora perché questo tipo di delocalizzazione non è avvenuta soltanto con il nord d'Italia è avvenuta anche con altri paesi dell'Europa oltre che con paesi oltreoceano e qui ritorniamo al discorso che io avevo accennato all'inizio ad uno dei grandi momenti di crisi che attualmente l'azione investigativa dello Stato italiano sconta rispetto a quella di altri paesi che non si sono dotati nel frattempo dello stesso sistema di contrasto mi riferisco alla Germania in primo luogo dato che peraltro la prima presa di coscienza collettiva della natura dell'endrangheta avviene nella notte tra il 14 e il 15 e il 207 con la famosa ormai nota strage di Duisburg ma anche l'Olanda la Spagna il Belgio la stessa Inghilterra dove la presenza andranghetista è fortissima ancorché impercepibile sotto il profilo dei delitti diciamo così da strada perché in quei paesi si è via via consolidata una rete di relazioni di tipo economico faccio un esempio anche qui lasciando poi al vostro interesse alla vostra attenzione la possibilità di un approfondimento il settore della ristorazione per esempio in Germania è in mano ai calabresi è in mano all'endrangheta non ci sono mai state da quello che noi sappiamo nonostante le nostre segnalazioni indagini su questo settore economico ritengo per la semplice ragione che se così fosse stato a parte la necessità di dotare di professionalità le forze di polizia di strumenti investigativi che non sempre sono adeguati all'altezza di questo tipo di fenomeni anche di tipo patrimoniale ma se veramente la Germania avesse iniziato un'azione a tappeto soprattutto all'indomani di Duisburg ricordiamoci che la strage avviene all'interno di una pizzeria e che coloro che sono stati uccisi vi lavoravano comunque ne erano ospiti comunque lavoravano tutti nel settore della ristorazione poi anche nel settore della grande distribuzione commerciale ebbene per la Germania sarebbe una situazione difficile da contenere perché verrebbe a trovarsi con una condizione in cui buona parte di coloro che gestiscono questo tipo di attività sono riconducibili alle famiglie d'indranghete e variamente collegate anche al traffico internazionale di stupefacenti lo stesso dicasi per l'Olanda lo stesso dicasi per la Spagna il Belgio Malta Malta è stata per tanti anni il luogo diciamo privilegiato di gestione delle scommesse clandestine dei giochi online le più importanti società che l'andranghete ha costituito nella materia delle scommesse online avevano tutte sede a Malta un'inchiesta del mio ufficio lo ha acclarato in modo assolutamente inequivoco quindi fino a quando è questo è il grave diciamo è il grave elemento di crisi che ancora noi oggi scontiamo fino a quando non verrà uniformato il livello di contrasto a livello europeo e ciò che accade in Italia viene conseguentemente portato avanti anche in altri paesi noi ci troveremo sempre in grandissima difficoltà perché avremo limitato la nostra azione all'interno del territorio nazionale del nostro territorio nazionale quando in realtà la forza operativa dell'andrangheta io uso spesso le spessure delle indranghete perché sono tante le organizzazioni che poi operano su questi territori ormai si svolge su questi luoghi vorrei citarvi soltanto uno dei casi più clamorosi e più recenti che a mio giudizio proprio dimostrano lo scollegamento che esiste in ambito europeo fino a quando l'Unione europea non diverrà veramente uno Stato federale non si doterà di un ordinamento investigativo e giudiziario uniforme nonostante tutte le agenzie di coordinamento che in atto esistono ed è la vicenda di un piccolo paese situato nel cuore dell'Europa in particolare dell'Europa dell'Est che è la Slovacchia ebbene in Slovacchia voi sapete che nel febbraio del 2018 un giornalista 27enne Jan Kusiak è stato ucciso assieme alla sua fidanzata barbaramente con diversi colpi di pistola sparategli da brevissima distanza da un killer apparentemente solitario che è arrivato sino a dentro l'abitazione di questi ragazzi di un piccolo centro del paese e uccidendoli e facendoci che poi la loro morte venisse scoperta diverse ore dopo cosa avessero commesso questi due ragazzi lui giornalista lei architetto per meritare questa fine atroce non è mai emerso in modo come dire causalmente incontrovertibile l'unica cosa che è emerso è che lui era un giornalista di un'agenzia di giornalismo investigativo collegato a vari altri giornalisti tra cui alcuni anche italiani e con sede in diversi europei il consorzio di giornalismo investigativo credo che si chiami IRSI o IRSI una cosa del genere e che soprattutto stava lavorando sulla presenza di alcune famiglie calabresi di Indrangheta da tempo stanziatisi in quei paesi e delle relazioni di questi soggetti con esponenti dell'apparato pubblico dell'apparato imprenditoriale addirittura alcuni molto vicini anche alla presidenza della Repubblica ebbene prima di quell'omicidio mai nessuno si era occupato di queste famiglie di Indrangheta mai nessuno si era chiesto come fosse stato possibile a queste persone nell'arco di un ventennio arrivare a gestire 60 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea queste persone erano andate in Slovacchia sostanzialmente senza soldi avevano iniziato ad acquistare terreni avevano iniziato a realizzare aziende di allevamento di animali aziende di macellazione di carni di sfruttamento intensivo di terreni beneficiando di sostegni pubblici straordinari senza che mai nessuno si fosse posto il problema di andare a verificare chi cosa come e perché l'omicidio di questo povero ragazzo e della sua fidanzata ha come dire improvvisamente messo quel piccolo paese l'opinione pubblica di quel piccolo paese ma soprattutto l'opinione pubblica di tutta l'Europa di fronte a questa verità brutale cioè di come fosse stato possibile che gruppi di dranghettisti a un certo punto si siano potuti arricchire in questo modo l'inchiesta giudiziaria che verrà fatta accerterà alcune responsabilità per questo omicidio soprattutto a livello esecutivo è sempre rimasto sullo sfondo quello che poi era fondamentalmente l'azione investigativa che Cusiak stava svolgendo assieme ai suoi colleghi cioè le collusioni le connessioni tra le famiglie Vadalà Rodà alcune delle famiglie della drangheta regina ionica con centri diciamo dell'amministrazione pubblica con apparati dei servizi con personalità politica anche di alto livello documentati da tutta una serie di attività di indagine tra l'altro di cui anche le stesse autorità slovacche prima ancora dell'omicidio diversi anni prima dell'omicidio erano venute a conoscenza perché le autorità giudiziarie italiane avevano trasmesso questi dati ma non erano semplicemente mai stati presi in considerazione mai sviluppati mai considerati e su questa vicenda saprete tutti che in quel paese devo dire ci sono stati notevoli rivolgimenti è caduto un governo è caduto il presidente della repubblica è stato eletto un nuovo presidente della repubblica c'è stata almeno così ci viene rappresentata una presa di coscienza sempre più forte sempre più ampia del livello di di presenza di condizionamento da parte della criminalità organizzata all'interno al proprio interno ecco questa è una vicenda paradigmatica ma potrei citarne altre appesantendo magari il mio discorso però il senso è sempre lo stesso cioè fino a quando ci saranno dei paesi che per tante ragioni neppure come dire tutte riconducibili ad una volontà di di non voler considerare questi fenomeni ma direi in primo luogo alla incapacità o difficoltà a considerarli nella giusta dimensione così come siamo in grado ormai di fare noi da tanto tempo almeno a partire dal maxiprocesso dal pull istruzione del tribunale di Valermo dagli anni 80 in poi e quindi questi fenomeni rimarranno sostanzialmente privi di una considerazione in altri territori di altri paesi dell'Unione Europea l'azione di contrasto che la magistratura le forze dell'ordine pur con tutti i suoi limiti pur con tutte le sue difficoltà pur con tutte le sue cadute peraltro note anche recentemente di moralità di etica di correttezza e quant'altro ma che comunque ha consentito di assicurare in questi anni sarà sempre monca sarà sempre avrà sempre colpito una parte del sistema del sistema criminale ma non lo avrà aggredito nella sua nella sua interesse ecco quello che il grande la grande difficoltà che noi oggi abbiamo davanti è far comprendere a questi paesi che la criminalità organizzata e in particolar modo l'andrangheta costituiscono una minaccia seria serissima non solo per il sistema economico non solo per la tutela delle regole della concorrenza e della parità di condizioni tra gli operatori economici ma anche per il funzionamento obiettivo ed ordinato delle istituzioni delle istituzioni pubbliche della capacità di resistere all'enorme forza d'urto che queste organizzazioni hanno grazie ai capitali di cui dispongono alle relazioni che instaurano e quindi alla capacità di imporsi anche in altri paesi ecco io potrei anche fermarmi qui professore non so mi rimetto un po' a lei credo di avere fatto un po' una sintesi di un percorso che è quello che noi oggi qui a Reggio Calabria stiamo stiamo vivendo cioè noi siamo fortemente impegnati come direzione distrettuale antimafia far comprendere con gli strumenti che abbiamo che in questo caso sono quelli del coordinamento della cooperazione internazionale agli altri paesi dell'importanza di una interlocuzione continua proprio perché siamo perfettamente consapevoli dei rischi che loro corrono non agendo tempestivamente nei confronti di questi fenomeni chiudo con una battuta nel 2019 se non ricordo male nel corso di un incontro presso la sede dell'AIA di Eurojust un collega il chairman di quella occasione che era un collega olandese si rivolse a noi dicendo cari colleghi italiani siamo felici di potervi ospitare qui all'AIA e siamo a vostra disposizione per tutto ciò che possiamo fare per voi io ho esordito forse un po' troppo sarcasticamente dicendo guardate che siamo noi che possiamo fare qualcosa per voi perché siete voi che avete dei problemi in questo momento e cominciai a elencare una serie di criticità soprattutto per esempio in quel caso la presenza di numerosi latitanti calabresi di broker calabresi che avevano scelto l'Olanda sostanzialmente come portofranco e quindi quella fu l'occasione anche poi arrestammo questi latitanti alcuni davvero particolarmente pericolosi alcuni collegati anche alla strage di Duisburg ma che circolavano liberamente senza alcun tipo di controllo e di azione investigativa da parte delle autorità locali nonostante le nostre segnalazioni ecco quindi se anche da parte degli operatori di quei paesi non vi è la consapevolezza che il pericolo è al loro interno noi rischeremo pur sempre di colpire ecco solo una parte del segmento e perdere di vista la possibilità di aggredirlo nella sua complessità mi fermo qua per adesso grazie le facciamo un applauso virtuale visto che speriamo poi di poter ripetere in presenza io la ringrazio molto è stata una una ricostruzione giudiziaria della rispetto all'andrangheta che a mio modo di vedere ha due due aspetti che ho apprezzato è l'ottica comparata che spesso ha utilizzato per osservare l'andrangheta rispetto a cosa nostra e poi quest'ottica storica ecco sempre calata anche nel per quanto possibile insomma nel tempo di istruzione nel contesto questo è molto importante ci ha fatto capire che anche l'evoluzione di queste organizzazioni criminali seguono processi di trasformazione che riguardano il mondo sociale l'economia la politica la stessa azione di contrasto e a sua volta la stessa azione di contrasto ha molto a che fare con quello che accade insomma non si muove nel vuoto ha ha ricordato un po' le indagini più importanti Olimpia Crimia Infinito mi piace ricordare che quest'anno è il decennale anche di un'altra operazione per quanto riguarda il Piemonte Minotauro che è un'operazione in gran parte gemella Crimia Infinito perché ha scoperto in Piemonte la struttura in locali della della dell'andrangheta se posso fare tre piccoli tre piccole sottolineature e poi qualche domanda ma lasciando poi anche spazio agli altri uditori una cosa che mi ha colpito è che non è come forse sa almeno tra gli studiosi è oggetto di di dibattito è che lei nel illustrarci il momento in cui l'andrangheta avverte l'esigenza di dotarsi di una struttura di coordinamento e quindi di un modello interorganizzativo che poi verrà accertato a livello giudiziario appunto dalla da crimine dall'operazione crimine e da altre che si susseguono nel tempo lei sembra colloccare come dire storicamente cioè una cosa importante dal punto di vista storico sociologico è che lei dice ad un certo punto l'andrangheta avverte questa esigenza per quanto c'erano dei momenti diciamo unitari e si dota di questa struttura o non l'abbiamo approfondita o si scopre questa struttura che magari era esistita in passato insomma su questo potremmo fare così come sa c'è un altro tipo di narrazione che vuole un po' forse da studiosi che racconta la stessa storia ma in un ordine un po' diverso crimine avrebbe portato in evidenza avrebbe fatto emergere l'esistenza di questa struttura unitaria che lei a mio modo giustamente non ha enfatizzato molto come unitaria ma come struttura di coordinamento che naturalmente prevede una una sua unitarietà ma utilizzato mi pare di più come dire altri termini l'avrebbe portato alla luce come un modello come dire che è sempre esistito ma che fino allora non era non era emerso non era uscito non è uscito fuori sono due come dire l'esito e se vogliamo poi a livello giudiziario forse non cambia granché sulle dinamiche evolutive storiche sociologiche dell'andrangheta invece la differenza non è piccola se questa è una struttura come dire sempre attiva che ad un certo punto viene scoperta dagli investigatori o se una struttura che è stato oggetto di dibattito di confronto all'interno delle consorterie criminali ma che ad un certo punto era stata poi formalizzata con quando si scopre il capocrimine eccetera sono due cose un po' diverse molto interessanti dal punto di vista non lo so se per lei ma dal punto di vista di chi fa analisi di chi studia queste dinamiche l'altro l'altro aspetto che mi ha incuriosito molto che quasi è stato un lapsus nella sua quando ha detto ha parlato di indrangheta al plurale ha detto le indranghete e avevo detto ah beh perché io spesso parlo di indranghete ecco anche questo non è molto comune ma posso dire dal mio osservatorio di studioso così io lo sottoscrivo molto ecco questa idea che l'indrangheta è una formazione che ha una sua unitarietà eccetera eccetera ma che è costituita da indrangheta non so come chiamarle da strutture organizzative molto diverse molto diverse anche all'interno della stessa Calabria e il fatto come dire di non questo non è che indebolisce l'azione di contrasto no? perché spesso alcuni suoi colleghi dicono no ma noi abbiamo bisogno capisco che c'è questa però ecco sempre dal mio punto di vista diciamo più sociologico invece c'è una fortissima io direi differenza che è interessante che è storica ma è anche sociologica non solo storica non è solo una questione di tempi che pure sono molto molto importanti e quindi mi ha incuriosito moltissimo questo questo aspetto lo apprezzo se vuole aggiungere qualcosa e poi l'altro grande fronte che su cui ha insistito molto giustamente è la necessità di una legislazione appropriata efficace anche in altri paesi e auspicabilmente almeno a livello europeo di unione europea a questo proposito volevo chiedergli la neonata cosiddetta procura europea ha dei come dire è stata salutata come un grande passo in avanti così lei che giudizio ne dà e comunque le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni anche ieri il dottor Gatti diceva rispetto al vecchio modello delle erogatorie anche lui diceva non funziona perché sono delle cose rispetto alle esigenze che abbiamo così mentre dava un giudizio un po' più positivo delle squadre investigative comuni lui diceva la direzione dovrebbe essere quella di una vera e propria cooperazione anche a livello investigativo ecco lei cosa pensa di di questo io mi fermerai qui perché avrei tante domande ma come al solito poi rischio di sovrastare vogliamo raccogliere anche altre domande vuole rispondere come preferisce rispondere magari poi possono aggiungersi anche altre domande chiaro che io mi sono limitato a come dire introdurre una serie di elementi essenziali per così creare una piattaforma anche per un per un dibattito necessariamente dovendo tralasciarne altri per esempio e così rispondo alla prima alla prima domanda quando dice l'andrangheta cioè la struttura di cui l'andrangheta via via si è dotata è sempre esistita sì è vero però diciamo che questa struttura non è sempre stata immanente cioè noi dobbiamo distinguere tutto quell'apparato di regole che normalmente viene collocato nell'ambito della rituale di affiliazione e di riconoscimento e delle cariche che si che si che vengono distribuite all'interno dei gruppi dranghetistici dalla struttura che mette in relazione sono i gruppi dranghetistici in quanto tali sono due cose diverse ora mentre l'apparato di di reclutamento e poi di riconoscimento che peraltro nel tempo ha anche sviato la conoscenza del fenomeno perché l'ha fatto apparire soltanto come una sorta di orpello folcloristico e arcaico di relazioni nell'ambito di società ancora tutto sommato o tribali che non avevano conosciuto un livello di civilizzazione adeguato in realtà quello che a me interessa evidenziare è che l'andrangheta o i gruppi di andrangheta a un certo punto sono obbligate a creare degli elementi di collegamento tra di loro per evitare che di rimanere sostanzialmente costretti in una condizione di conflittualità permanente ed è quanto per esempio decidono di fare alcune grandi famiglie della fascia tirrenica mi riferisco per esempio ai piromalli con quelle della fascia ionica mi riferisco ai nirta e a quelle del centro in particolar modo ai de Stefano nel momento in cui c'è da gestire i flussi di spesa pubblica che derivano per esempio per le grandi opere infrastrutturali di cui ho parlato prima oppure come emerge nell'ambito di un altro procedimento in corso che potrebbe quando il relativo provvedimento diverrà definitivo essere in qualche modo considerata la terza fase evolutiva dopo Olimpia e Crimine Infinito mi riferisco a Gota il procedimento noto qui come Gota cioè quel procedimento che mette in evidenza come per condizionare i flussi che a Reggio Calabria derivavano dovevano derivare dallo Stato centrale per il cosiddetto decreto Reggio un decreto adottato per finanziare interventi infrastrutturali per la provincia di Reggio Calabria e che vedeva la compartecipazione delle grandi famiglie d'Indrangheta di tutta la provincia quelle che ho prima citato proprio in una funzione preventiva per dirimere eventuali contrasti e accordarsi sulle modalità di gestione ebbene in corrispondenza di tutto questo via via noi abbiamo avuto diversi livelli di tipo decisionale che nati diciamo su una base all'inizio informale poi sono stati formalizzati mi riferisco per esempio alla cosiddetta santa cioè a quella struttura che aveva il compito esclusivamente di stabilire le eventuali sanzioni per le violazioni più gravi commessi dagli appartenenti all'organizzazione e per gestire le relazioni con le organizzazioni che operavano fuori dal rispettivo territorio mi riferisco alla struttura dei cosiddetti invisibili cioè di soggetti appartenenti ad altri ambiti relazionali che non a quelli indranghetistici da un lato la massoneria dall'altro le professioni ma anche gli appartenenti alle forze dell'ordine al sistema di contrasto che hanno avuto rapporti diciamo dall'ordinario con la criminalità organizzata mi riferisco in particolare ecco vorrei citare anche un dato investigativo sicuramente di vostra conoscenza ad una espressione che utilizzò nel 2010 Pantaleone Mancuso detto vetrinetta quando ad un certo punto parlando con un suo sodale con pochissime espressioni estremamente efficaci certamente molto più efficaci del discorso che stamattina vi ho fatto io ha delineato proprio l'evoluzione storica dell'andrangheta e ha detto a questo suo sodale vedi un tempo c'era l'andrangheta l'andrangheta all'andrangheta appartenevano le famiglie per bene le famiglie della borghesia o comunque del latifondo calabrese in realtà oggi l'andrangheta ecco è fatta soltanto per questi quattro storti cioè per quelli che ancora pensano e si illudono di poter avere un posto nella società semplicemente perché seguono dei rituali ma oggi l'andrangheta è nella massonneria quella che conta è la massonneria queste parole che fanno parte di un'intercettazione che agli atti del processo rinascita Scott che si celebra in questo momento davanti al tribunale di Lamezia Terme nella loro semplicità ma anche nella loro essenzialità mettono in evidenza proprio la capacità dell'andrangheta come ha detto anche qualcuno di essere liquida cioè di sapersi adeguare alle situazioni storiche contingenti per mantenere inalterata il suo protagonismo è vero i rituali oggi ancora ci sono noi lo vediamo dalle indagini emergono emergono spesso riferimenti alla loro necessità però sappiamo anche che l'andrangheta come tutte le organizzazioni complesse ha al proprio interno una stratificazione anche di censo anche di classi sociali di coloro che vi appartengono per cui non tutti quelli che provengono per esempio dal mondo delle professioni e sono ancora tantissimi hanno bisogno di rituali di affiliazioni per far parte dell'andrangheta assolutamente ormai fanno parte di un livello ulteriore si interloquiscono con i loro referenti che sono imprenditori che sono gli esponenti che sono spesso figli e quindi appartengono alle seconde alle terze alle quarte generazioni degli antichi esponenti dei grossi casati di indrangheta in modo diretto è gente che cammina in giacca e cravatta cioè sono assolutamente insospettabili ecco perché io parlo anche di indrangheta perché poi assieme alla struttura tipica dell'organizzazione criminale che compie delitti sul territorio di un certo tipo via via è emessa tutta una fenomenologia estremamente diversificata di gruppi criminali collaterali e convergenti talvolta per esempio tanto per fare un esempio il modello indranghetista viene utilizzato in diverse parti della provincia di Catanzaro questo è un fenomeno molto forte in quell'area con riferimento a gruppi di estrazione nomade gruppi di estrazione rom che compiono sul territorio tutta una serie di attività predatorie ma mutuando in qualche modo una certa modalità indranghetista di gestione è chiaro che da un punto di vista penale non è scontata la loro riconducibilità all'indrangheta dei mancuso tanto per fare un esempio dei piromalli o comunque all'indrangheta delle stanze di compensazione decisionale però certamente il loro metodo sul territorio dall'imprenditore che subisce l'estorsione è vissuto come un metodo mafioso un metodo indranghetista ecco perché quindi è anche possibile adottare questa questa terminologia al plurale poi per quanto riguarda l'aspetto della cooperazione internazionale io francamente devo dire non mi aspetto granché dalla procura europea perché nasce per salvaguardare gli interessi di bilancio dell'unione europea nasce senza una struttura investigativa di base quindi dovrà sostanzialmente mutuare la propria il proprio supporto investigativo utilizzando le strutture investigative esistenti quindi non so a che cosa può portare realmente questo nuovo organismo io ribadisco l'idea che avevo già anticipato prima che solo con un intervento legislativo uniforme di tipo proprio federale federale quantomeno sulla materia penale sulla materia ordinamentale delle giurisdizioni può giungersi ad un'azione di contrasto uniforme se non arriviamo a quello a mio giudizio il rischio è di un contrasto all'andrangheta a varie velocità certamente quella italiana ripeto con tutti i suoi limiti e i difetti è quella più diretta più immediata le altre arrancano e arrancano anche molto allora grazie abbiamo delle domande delle richieste di domande allora una domanda in chat e poi abilitiamo chi ha chiesto di parlare Maria Josefava che è la referenza Libera Piemonte oltre che componente dell'ufficio di presidenza di Libera Nazionale grazie Maria Iosai di essere qui con noi poi c'è un allora uno studente subito dopo Billy ma in chat uno dei nostri studenti che se ho capito che è intervenuto anche ieri ed è un funzionario di un ufficio giudiziario chiede riassumo io se i rapporti che sono stati provati nelle aree non tradizionali del nord tra diciamo Drangheta casa madre e per così dire filiali in altri territori sono dei rapporti è stato provato che siano continuativi oppure di tipo episodico legate a circostanze immagino vorresti dire di tipo apparistico e così spero di aver riassunto bene la domanda facciamo fare la domanda a Maria Iosefava ti abilitiamo ok grazie sì buongiorno buongiorno dottore ci siamo incrociati in qualche formazione di libera in qualche momento anche con la nostra inserando con Don Luigi in varie occasioni io la ringrazio però è interessantissimo l'argomento e il suo approfondimento io devo fare una domanda forse un po' ingenua mi scusi però è una domanda che ci facciamo spesso al nord lei prima in questo ultimo suo passaggio parlava di Andranghete al plurale parlava dei rapporti che si sono costruiti con la massoneria noi come libera siamo costituiti parte civile in entrambi i processi importanti che si stanno celebrando adesso in Calabria e quindi appunto processi che ci danno un'idea dell'Andranghete in maniera più ampia nei rapporti con la massoneria con la politica con le istituzioni con l'imprenditoria guardando per la mia conoscenza che sicuramente è limitata al nord e al Piemonte per esempio da Minotauro quindi dieci anni fa a tutte le operazioni che ci sono state dopo che sono state tante l'ultima questa operazione che si chiama Platinum Dia di un mese fa che ha riguardato proprio il Piemonte la Germania riguardato i ristoranti lei prima faceva un passaggio su questo non emergono non si leggono ancora almeno o forse sono io che me lo sono perso questi rapporti più complessi con pezzi di politica pezzi di istituzioni pezzi di massoneria ci sono delle situazioni in cui c'è un politico per voto di scambio politico mafioso c'è un imprenditore un notario un avvocato qualcuno delle forze dell'ordine però all'interno di operazioni che guardano soprattutto all'andrangheta in quanto locale o quanto andrina con cognomi che tornano sempre noi abbiamo i Marando i Crea quindi cognomi che ritornano anche in più operazioni gente che è entrata con Minotauro ma poi è uscita dopo Minotauro e ha continuato a fare appunto operazioni sul territorio non si vedono ancora appunto processi come in Ascita Scotto o altri che di cui lei prima ci ha parlato e che riguardano che possono riguardare il nostro territorio quindi quel potere quel capitale sociale che ci ha insegnato il professor Sciarrone che si costruisce qua è perché non ci sono ma non credo è perché è diverso diciamo arrivando dopo essendo le indagini devono ancora arrivare a determinate situazioni è perché è più complicato è perché siamo meno pronti ecco questa è un po' la riflessione per noi importante perché Don Luigi ci stimola sempre a guardare fuori dalle macchie lui dice sempre che la forza delle mafie è fuori dalle mafie e i rapporti che si costruiscono al di fuori però a volte è difficile dire che ci sono al nord che ci sono in Piemonte perché poi le operazioni che vediamo e gli esiti diciamo processuali sembra quasi che sempre ritornino sull'ala più militare l'organizzativa dell'organizzazione grazie 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 ancora ancora una domanda procuratore da Billy se Vittorio lo puoi abilitare buongiorno 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 sì io avrei più di una domanda dottor Pace allora innanzitutto volevo capire l'andrangheta viene riconosciuto come tal non si sente bene non si sente bene si sente bene prima non si poteva non si e poi si sente scusi non si sente bene non si sente bene si sente ora si sente adesso forse provi mi sento adesso professore sì adesso ok allora ripeto la prima domanda era era questa si è dovuto aspettare fino al 2010 per scoprire l'andrangheta inserita nel 416 bis prima non si è potuto cioè perché prima non si è potuto non si è potuto scoprire prima non ci sono stati nessun nessun modo per scoprire prima una tale organizzazione con tale potenza la mia prima domanda la seconda domanda che volevo porre era perché i paesi europei non si danno una svegliata cioè nel senso in Germania c'è l'andrangheta perché la Germania cioè comunque la mafia il fenomeno mafioso calabreso in generale è riconosciuto perché questi paesi non si danno una svegliata e dicono vabbè creiamo questo ordinamento effettivo di contrasto concreto perché secondo lei non lo fanno e la terza la terza domanda che è più un'opinione che ho fatto che ho chiesto anche al dottor Gattieri cosa ne pensi del fenomeno di Brusca dello scogionamento grazie grazie se non ci sono altre rispondo quando vuole professore prego risponda professore rispondo quando vuole prego puoi rispondere direi allora la domanda signora Fava perché perché in Piemonte si riesce a far emergere quel tipo di connessioni criminali che l'andrangheta stabilisce con vari protagonisti della vita economica sociale e anche istituzione del nostro paese ma le ragioni sono secondo me molteplici non c'è una sola ragione ho cercato di spiegare probabilmente non sono stato sul punto molto chiaro che un primo ritardo nell'azione di contrasto globale all'andrangheta noi l'abbiamo scontato all'interno del nostro paese lo abbiamo scontato proprio con riferimento a quell'insediamento che dagli anni 70 in poi si è avuto nelle regioni del centro nord d'italia che citavo il caso dell'omicidio del procuratore caccia bruno caccia ucciso nel 1973 non vorrei dire una una fesseria ma credo sia così 83 83 83 83 come un omicidio di indrangheta perché si è scoperto poi che all'interno dell'ufficio dove lui lavorava c'erano altri magistrati che nei confronti di soggetti appartenenti all'andrangheta avevano un orientamento completamente diverso dal suo magari ci andavano anche a cena comunicavano l'esito delle indagini consentivano loro di potersi schermare dall'azione investigativa mentre caccia era uno invece che voleva fare il suo mestiere per come per come la costituzione e l'ordinamento impongono di fare quindi voglio dire ci sono stati via via in varie parti del territorio tutta una serie di segnali della presenza indranghetista però questi segnali non sono stati colti non sono stati poi sviluppati non hanno avuto quell'esito che al di là di singoli specifici fatti hanno consentito di arrivare ad una ricostruzione di sistema la prima ricostruzione di sistema dell'andrangheta in piemonte arriva soltanto con minotauro cioè a distanza di oltre 30 anni ed è chiaro che tutto questo nel frattempo che cosa ha generato ha generato un consolidamento dell'organizzazione quindi un obiettivo vantaggio rispetto all'azione degli investigatori che ovviamente avranno bisogno di un tempo se non pari ma quantomeno considerevole in termini di anni per arrivare a comprendere esattamente come operano le indranghete in quel territorio però non possiamo sempre dare la colpa ovviamente agli altri cioè dobbiamo anche tenere conto di un dato di fatto oggettivo che la presenza delle organizzazioni indranghetiste in questi territori non si esprime allo stesso modo in cui si è espressa e continua ancora ad esprimersi nei territori di provenienza cioè non è altrettanto facilmente replicabile il modulo operativo della consorteria di indrangheta nel nord del paese secondo lo stesso tipo di approccio che troviamo a Gioia Tauro o a Reggio o a Opido Mamertina o a o a Dardore per esempio o a Bovalino per il semplice motivo che le condizioni sociali strutturali organizzative cambiano e quindi l'andrangheta che ha chiaramente compreso la necessità di poter espandere al massimo la propria la propria organizzazione e il proprio intervento sull'economia a meno non ha più interesse ovviamente a creare condizioni di sovraesposizione rispetto al controllo dell'autorità pubblica perché sa che comunque c'è un controllo da parte dell'autorità pubblica molto più attento molto più capillare ed efficace e quindi questo è un dato che di per sé muta diciamo la condizione la condizione cioè muta i presupposti per la condizione di intervento da parte da parte dell'azione di chi deve esercitare l'azione di contrasto poi diciamolo pure per molti anni il fenomeno della criminalità organizzata nel centro nord è stato sottovalutato anche dalle istituzioni io non in questi casi mi rifaccio sempre alle parole di quel questore di Modena che pochi anni or sono disse che in quel territorio non c'era la criminalità organizzata non c'era l'andrangheta non oltre 10-15 giorni la procura distrettuale di quel territorio fece un'operazione che credo poi coincise con o confluì nell'operazione Emilia grande maxi processo appunto all'andrangheta di Cutro consolidatasi in Emilia Romagna e fu cortesemente invitato a dimettersi da quel perché evidentemente non aveva compreso nulla quindi voglio dire c'è anche cito semplicemente questo esempio non perché più come dire più indicativo di altri ma semplicemente perché come tante altre manifestazioni della insufficiente capacità di analisi e di comprensione di questi fenomeni ancora oggi noi dobbiamo scontare diciamo un ritardo culturale sicuramente meno forte che in passato oggi ma che comunque ancora persiste su questo tipo di fenomeni al nord si tende anche da parte della classe politica diciamolo pure in buona fede a dire per come dire garantirsi rispetto all'elettorato una condizione di attenzione che certi fenomeni non esistono perché si pensa che le comunità del centro nord laboriose produttive rispettose dell'ordine delle leggi in realtà non abbiano nulla a che fare con i fenomeni criminali del nord quando poi in realtà spesso il sistema economico di intere zone del centro nord si basa sulla presenza di imprenditori draghetisti comunque variamente collegati con l'andanghet il discorso è molto lungo e complesso però ritengo che sia l'insieme di tutti questi fattori ad aver ancora oggi determinato una situazione di ritardo certo è però che possiamo dire che tanti uffici giudiziari ormai ecco almeno penso nella cultura della magistratura italiana c'è un livello di consapevolezza molto alto della presenza delle organizzazioni indranghetiste in varie parti del territorio sia pure con queste diversità di tipo strutturale che non possono essere eliminate la domanda di billi le domande di billi sono più o più di una allora perché perché prima no perché prima no perché prima no in qualche modo ho cercato di rispondere adesso cioè perché vedete per comprendere esattamente la criminalità di tipo sistemico ed aggredirla non ci si può limitare soltanto a considerare un singolo episodio delittuoso ma bisogna avere davanti una una analisi di ciò che accade in un certo territorio e studiare studiare per esempio le attività economiche quanti fallimenti ci sono quante imprese ogni anno vengono iscritte chi c'è dietro queste imprese quante persone ultra settantenni per esempio sono a capo di consigli di amministrazione di società quando è normale che a quell'età insomma non ci si occupa più di queste cose il che è indicativo dell'esistenza di gestori occulti ecco c'è da mettere a sistema una enorme mole di informazioni che solo gli specialisti sono in grado di gestire normalmente sono specialisti della DIA della Guardia di Finanza della Magistratura ovviamente io mi occupo proprio di questo cioè di verificare l'andamento delle situazioni economiche sul territorio non solo sul territorio di Reggio Calabria ma anche sul territorio dove i gruppi che operano nella provincia di Reggio Calabria poi vanno ad investire altrove al nord prevalentemente quindi è un lavoro molto difficile molto complesso che chiaramente ha dei tempi di realizzazione molto più lunghi rispetto a quelli che occorrono per scoprire un singolo fatto delittoso un singolo omicidio una singola estorsione però è il lavoro che paga perché quel lavoro consentirà o consente io lo dico per quanto riguarda Reggio posso dire certamente consente poi di poter avere un monitoraggio una fotografia reale ed attuale di ciò che accade su un certo territorio o di ciò che viene fatto fuori da questo territorio da parte di chi vi opera certo la difficoltà con l'Andrangheta è determinata anche dal fatto che il suo territorio di elezione ormai non è più la Calabria cioè voi non potete pensare noi non possiamo più pensare come accadeva in passato che i soldi delle attività illecite rimangano a San Luca a Platì o a Gioia Tauro o a Oppido Mamertina questi soldi vanno sempre fuori vengono portati fuori quindi occorre individuare esattamente i circuiti del riciclaggio occorre capire in quali iniziative economiche sono stati inserite è chiaro che io lo posso fare utilizzando le risorse di cui dispongo sul mio territorio ma anche le risorse che ci sono in quei territori e se in quei territori non ci sono per esempio investigatori culturalmente professionalmente attrezzati per comprendere questo tipo di investigazioni io già sconto un'enorme difficoltà nell'analisi e se l'analisi non è adeguata non può essere altrettanto adeguata anche la risposta il contrasto i paesi europei i paesi europei sanno benissimo quello che accade al loro interno però si misurano intanto con una serie di difficoltà strutturali cioè voi dovete pensare faccio un esempio tra i più banali di cui sicuramente avrete sentito parlare che gli investigatori di molti paesi normalmente hanno dei limiti proprio operativi funzionali penalizzanti non hanno la possibilità di operare oltre un certo orario possono svolgere attività intercettiva con limiti estremamente ridotti possono fare perquisizioni solo a determinate condizioni ora noi questi limiti li abbiamo superati non perché non perché siamo la canea del diritto non perché non rispettiamo i diritti fondamentali delle persone non perché siamo indifferenti alle garanzie al contrario il nostro ordinamento è un ordinamento molto garantista noi abbiamo una delle costituzioni più rigide del mondo sulla tutela dei diritti della persona soprattutto della persona indagata della persona imputata del rispetto del diritto di difesa di determinati limiti che devono essere osservati nell'attività di intercettiva abbiamo uno dei sistemi di intercettazione ambientale telefonica telematica tra i più evoluti al mondo ma anche tra i più rigidi al mondo perché tra l'altro passa sempre dal controllo del giudice quindi non è che noi facciamo strame delle garanzie al contrario però abbiamo una cultura professionale sperimentata ovviamente nel corso di decenni è una cultura professionale che nasce anche dalle stragi che altri paesi non hanno avuto stragi di mafia stragi di magistrati di imprenditori di inermi cittadini di appartienti alle forze dell'ordine giornalisti e così via che ci ha consentito quindi di fare un salto di qualità enorme appunto dicevo le nostre norme le nostre leggi sono state codificate nella convenzione ONU del 2000 purtroppo ancora oggi scarsamente recepita quindi è chiaro che questi paesi devono fare intanto i conti con queste difficoltà di tipo culturale e strutturale ma poi devono fare i conti anche con le difficoltà politiche diciamolo pure perché così come vale per l'amministratore del nord del veneto o della bergamasca dire no qui non c'è la mafia questo è un territorio pulito gli imprenditori sono persone per bene che operano per il profitto però rispettando le regole anche loro sanno che se si cominciano a toccare certi settori economici certi segmenti del di mercato si rischia di buttare giù buona parte delle attività produttive in fondo il caso che vi ho raccontato della Slovacchia è proprio questo cioè il manovratore indanghetista per oltre vent'anni ha fatto tutto quello che voleva fare indisturbato e nessuno mai gli ha chiesto conto solo l'omicidio di quei poveri ragazzi ha fatto emergere questa realtà altrimenti noi ancora oggi delle cosche Roda e Vadala che operano in Slovacchia non sapremo nulla o meglio noi lo sappiamo perché perché abbiamo tra l'altro abbiamo raccolto elementi fatto indagini abbiamo anche mandato diversi anni fa ormai quasi dieci anni fa una serie di informazioni che non sono state mai sviluppate però l'opinione pubblica penserebbe che la Slovacchia sia semplicemente il paese delle belle ragazze tanto per dire no non certo una 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 un'enclave di indrangheta nel cuore nel cuore dell'Europa per cui c'è anche da affrontare una problematica di tipo politico perché questo un po' come dici come ha sempre detto il mio professore di diritto penale Giovanni Fiandaca cioè la legalità è un bellissimo concetto sta scritto nella Costituzione però poi nel concreto si declina cercando di valutare le compatibilità allora lui dice giustamente noi non possiamo più parlare di legalità to cure ma dobbiamo parlare di legalità possibile di legalità sostenibile cioè di quanta di quanto di quale sia il tasso di legalità che ciascun paese ritiene di aver bisogno nemmeno perché si rischia il caos sociale soprattutto il caos economico ed istituzionale né di più perché alzare troppo l'asticella della legalità rischia di rompere tutta una serie di equilibri e di creare ulteriori caos sono discorsi complessi me ne rendo conto però bisogna avere anche come dire questo tipo di divisione per quanto riguarda il caso Brusca io posso dire questo cioè che Brusca è stato ed è un collaboratore di giustizia che ha fatto un certo percorso durante i quali ha raccontato ecco questo semmai è l'unico problema ha raccontato tutta una serie di vicende di fatti di situazioni io non so se abbia raccontato veramente tutto veramente tutto probabilmente no però sicuramente ha consentito attraverso le sue dichiarazioni di dare un contributo importantissimo alla magistratura alle forze dell'ordine per scoprire delitti arrestare arrestare i loro autori individuare elementi di collusione con le istituzioni e così via quindi il suo percorso si è svolto in perfetta aderenza alle leggi alle leggi cioè metterlo fuori dopo 26 anni credo di carcerazione non è stato il frutto di una decisione estemporanea di un di un giudice ma è stato l'esito di un percorso iniziato tantissimi anni fa quando lui cominciò a collaborare 1996 che è andato avanti secondo quello che le leggi prevendono con una serie di controlli di verifiche periodiche continuative quindi ecco io in questo non ci trovo alcun tipo di di scandalo così come non trovo scandaloso e so che questa non è un'opinione diciamo molto condivisa tra i miei colleghi in relazione a quanto si dice a proposito dell'ergastolo stativo cioè il tema diciamo molto dibattuto che tra l'altro nasce proprio da vicende calabresi da vicende che riguardano la strage di Taurianova da uno dei partecipanti alla faida di Taurianova del 1991 92 che poi ha fatto un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo con cui ha chiesto di valutare la compatibilità della normativa italiana che non consente di poter usufruire dei permessi premio a coloro che si sono resi responsabili di delitti di mafia se non collaborano con l'autorità giudiziaria o dimostrano di non avere nessun tipo di collaborazione da poter prestare la Corte europea dei diritti dell'uomo prima e poi la Corte Costituzionale dopo con la sentenza 253 del 2019 hanno ritenuto che queste norme italiane contrastano sia con l'articolo 3 della CEDU sia con l'articolo 27 della Costituzione perché di fatto impediscono la risocializzazione del condannato all'ergastolo comunque a pene molto lunghe pene detentive molto lunghe nel momento in cui pur non decidendo di collaborare però dà prova di aver compiuto un percorso di revisione critica del proprio operato e soprattutto di aver perso ogni tipo di collegamento con le organizzazioni criminali di appartenenza ora quello che hanno detto con queste pronunze è semplicemente attribuire al giudice di sorveglianza il potere di valutare in concreto se effettivamente una persona meriti o meno di poter usufruire del permesso premio o come stabilisce l'ultima ordinanza della Corte Costituzionale del maggio di quest'anno della liberazione condizionale lì il discorso è un po' diverso perché la Corte ha disposto che il Parlamento Italiano ha un anno di tempo per adeguarsi però il principio è sempre lo stesso il principio cioè qual è? il principio è che lo Stato non può rimanere indifferente rispetto alla posizione di chi dopo avere scontato quasi per intero la sua pena o comunque almeno 26 anni nel caso di penna all'ergastolo chieda di poter usufruire di qualche beneficio per iniziare un percorso di risocializzazione d'altra parte vedete se noi concepiamo l'azione di contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali dell'Andrangheta in particolar modo ma anche di Cosa Nostra come un'azione volta a sconfiggere queste organizzazioni criminali e Cosa Nostra per esempio da questo punto di vista è stata sconfitta perché non è stata più consentita la reiterazione diciamo la propagazione della sua azione con soggetti aventi un livello una caratura criminale pari a quella di chi è morto nel frattempo o è ancora detenuto noi così entriamo in una sorta di circuito perverso per cui non attribuiremo mai una fine a questa azione di contrasto e invece noi dobbiamo lavorare per per arrivare ad una fine per mettere nelle condizioni queste organizzazioni di esaurire la loro capacità di creare creare danni alla società e lo possiamo fare soltanto se ovviamente con un giudizio molto analitico molto attento molto molto accurato siamo in grado anche di portare dalla parte dello Stato anche chi non vuole collaborare anche chi ormai si trova in una condizione di totale indifferenza rispetto a questi a questi temi ma sempre che venga accertato che non ha per esempio più collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza e attraverso gli strumenti investigative è possibile farlo allora perché un giudice non si deve pronunziare nei confronti di queste persone valutando se ci sono o meno i presupposti per dire che una persona oltre a non essere più socialmente pericolosa soprattutto ormai non ha più la possibilità di instaurare quei collegamenti perché per esempio l'organizzazione criminale nel frattempo si è estinta non c'è più nessuno con cui riprendere quei rapporti ecco sono tanti i parametri adesso non scendo nel dettaglio di una questione che riguarda il diritto penitenziario però anche qui ecco io se mi consentite mi posso permettere professore un invito che faccio ai ragazzi mi è capitato anche in un'altra occasione recentemente è quello di non lasciarsi troppo suggestionare dalle 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 ondate mediatiche che come dire vivono questo tipo di situazioni in termini scandalistici in termini superficiali quasi cioè io per esempio all'indomani della sentenza della della CEDU del 2019 leggevo commenti anche di giornalisti importanti sulle principali testate nazionali ah ora troveremo Bagarella libero Bagarella che cammina per le strade di Corleone ora Messina Denaro finalmente potrà tornare dal suo rifugio perché tanto nessuno gli potrà dire sono enormi colossali sciocchezze che se che drogano però l'opinione pubblica non le consentono di comprendere la reale dimensione dei fenomeni è chiaro che uno come Bagarella cioè gente che ha avuto un ruolo decisionale si è reso responsabile di tantissimi delitti non potrà mai accedere a questo tipo di misure noi parliamo anche qui tenendo conto che le organizzazioni criminali al loro interno sono stratificate secondo criteri di censo e di classe sociale o comunque di forza di imporsi parliamo di soggetti che si sono resi responsabili di delitti a livello meramente esecutivo che si sono trovati incastrati in situazioni per cui hanno dovuto seguire una determinata impostazione familiare anche magari pur non volendolo e poi alla fine non ne hanno pagato le conseguenze ma poi questa gente guardate che dall'analisi che noi facciamo di tutto il sistema penitenziario perché noi abbiamo tantissimi detenuti che gestiamo noi sappiamo le storie di queste persone molte di queste persone ormai sono completamente dimenticate in carcere nessuno le cerca più non hanno rapporti con i parenti o perché sono stati a loro volta tutti ammazzati o tutti detenuti hanno perso ogni collegamento cioè tenere questa gente in carcere dopo ripeto un certo periodo normalmente 26 anni può anche non avere più senso può anche può avere senso a quel punto ripeto con un'attività mirata specifica sottoposta a controlli far sì che queste persone negli ultimi anni della loro vita magari si impegnino in organizzazioni di volontariato in qualche modo si sforzino di dare di restituire alla società anche in modo simbolico una parte del debito enorme che è forse inestinguibile perché soprattutto quando si tratta di delitti è sicuramente inestinguibile hanno contratto ecco bisogna avere un po' un approccio meno massimalistico meno scandalistico meno ecco meno conformismo purtroppo c'è molto conformismo in questa in questa materia quella che riguarda i collaboratori di giustizia quella che riguarda l'ergastolo stativo quella che riguarda in genere l'esecuzione della pena però per questo ci vorrebbe un altro master grazie procuratore anche per queste ultime riflessioni molto importanti eh eh sì su cui si potrebbe discutere a lungo però io penso sono d'accordo con lei lo sa che mi conosce che per l'antimafia oggi ha bisogno di meno conformismo che non significa eh porsi nuove domande porsi ripensarsi no è un percorso che molte realtà stanno facendo e quindi porsi anche delle domande scomode non avere già le tutte le risposte eh definite pronte no e non andare avanti in modo inerziale eh bisogna anche un po' eh consapevoli del fatto lo dico io che mi occupo di di altre cose che la la battaglia ehm più grande nei confronti delle mafie così non si gioca sul terreno del diritto penale eh di questo dovremmo anche essere eh così quindi eh come dire fondamentale gli strumenti del diritto penale ma poi e di questo dobbiamo però la inviteremo a discutere ehm a discutere eh di questo adesso è passato tempo non vogliamo abusare né di lei né di chi eh sta ancora seguendoci eh io mi limito eh come dire davvero a ringraziarla per tutti i temi che è affrontato in modo lucido senza sottrarsi anche a come come dimostra adesso questa su ultimo intervento a questioni eh scomode controverse eh così e più in generale eh la prossima volta che ci vedremo torneremo su questi temi della dell'antimafia io ho un mi permetto di fare una battuta finale proprio rispetto all'ufficio in cui lei lavora con ruoli anche così gravosi di coordinamento eh così perché molte delle inchieste che portate avanti e che 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 sono state svolte dalla dalla direzione di struttura antimafia di Reggio Calabria alcuni processi che sono in dibattimento ecco forse non hanno l'attenzione che meriterebbero eh non eh no come sai io a lei l'ho detto quindi non tolgo il force eh così anzi un qualche mese fa l'avevo cercata perché c'era un'importante inchiesta eh sulla sanità in Calabria ed ero rimasto molto sorpreso eh di cui che aveva coordinato lei peraltro ero rimasto molto sorpreso di questo scollamento no in un momento in cui la sanità è sotto i riflettori per la pandemia e poi quella calabrese in modo particolare è stato oggetto di eh talk show dibatti di così c'è un'inchiesta eh che eh porta alla luce anche se è nata prima ma porta alla luce eh come dire elementi che ci permettono di capire perché quel sistema funziona o non funziona in un certo modo ed è eh stata quasi completamente ignorata a livello di opinione pubblica allora c'è qualcosa che non torna eh no però però professore se mi consente lì eh non credo che ci si possa esimere dal mettere in evidenza come anche la eh vi sia una grossa responsabilità da parte del sistema mediatico complessivo dell'informazione e quindi mediatico eh nel veicolare all'opinione pubblica ehm i messaggi che arrivano dalle inchieste per carità le inchieste sono inchieste non sono sentenze possono poi essere confermate le sentenze oppure no però quando un'inchiesta mette in luce un aspetto eh della delle strutture che le organizzazioni criminali creano all'interno della società soprattutto con riferimento a a settori eh dove sono in gioco beni essenziali come per esempio la salute no lei prima parlava di quell'inchiesta sulla sanità eh allora eh la la colpa del sistema eh mediatico dove sta? Sta nel eh reagire soltanto con titoloni con scuppi roboanti e così via o con trasmissioni che durano eh intere serate eccetera eccetera quando ci sono di mezzo arresti eh grandi come dire grandi numeri ma quando c'è di mezzo la ehm necessità di eh avvertire l'opinione pubblica su determinati eh fenomeni su determinati eh guasti eh al di là diciamo ecco eh delle quantità dei numeri eh io vedo che da parte del servizio eh così eh mediatico sia pubblico che privato non c'è la stessa attenzione si fa fatica eh forse perché mh è più facile no interagire col grande pubblico sui grandi numeri no sulle cose che fanno sensazione non magari andare a sceverare eh questo tipo di eh situazione questo è un limite ma non è un limite eh è un limite del sistema dell'informazione quindi è il sistema dell'informazione che dovrebbe che dovrebbe interrogarsi eh eh e prendere come dire acquisire anche lì una maggiore capacità critica e non limitarsi semplicemente a fare da gran cassa rispetto eh rispetto a situazioni eh che sono sì eh importanti ma che in realtà poi eh non spostano il contrasto alle organizzazioni criminali io sono dell'idea che è molto meglio fare luce su sulla collusione tra colletti bianchi eh imprenditori professionisti avvocati magistrati anche magistrati e organizzazioni mafilosi che arrestare venti trenta quaranta cento narcotrafficanti ehm estortori e così via perché ehm la la criminalità da strada noi probabilmente non la non la fermeremo mai quella è un fatto eh come dire endemico a tutte le società eh ma la criminalità del potere eh come la definisce un noto sociologo palermitano che insegna a Londra Vincenzo Ruggero eh la criminalità del potere la la criminalità dei potenti rispetto alla criminalità dei eh dei poveri è quella che che crea più danni alla società ed 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 a quella noi dobbiamo guardare grazie concordo pienamente con lei i miei interessi di ricerca che poi sono anche interessi che hanno risvolti diciamo civici politici non so come chiamarli comunque io la ringrazio davvero tantissimo grazie a voi speriamo di speriamo di riaverla tra di noi magari riusciamo anche di invitarla di persone mi piacerebbe moltissimo eh però noi ci risentiremo eh davvero grazie a nome di di tutti e saluto anche tutti i partecipanti che sono rimasti eh con noi eh per adesso poi i corsisti con i corsisti ci vedremo tra un'ora perché oggi ho lezione per nel master quindi io andrò avanti bene arrivederci grazie ancora per l'occasione e grazie grazie davvero grazie arrivederci